cari adulti vi auguriamo per il prossimo anno associativo di vivere un tempo coraggioso per ridare speranza al nostro paese vi auguriamo un tempo extra large per fare dell'esperienza associativa dei nostri gruppi una casa bella e accogliente extra 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 large non nel senso di appesantiti noi super obesi ma di accoglienti di un cuore che non ha confini extra large abbiamo ancora tempo e non sciupiamo questo tempo che ci rimane diamolo diamolo a questo tempo diamolo a dio alla vita diamolo alla c ciao 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 ciao